Allora, ieri c'è stato un importante Consiglio Comunale, approvate alcune prossime iniziative oltre al reggassato di bilancio? Sì, un atto indubbiamente molto importante, del resto il bilancio di previsione era stato redatto dal commissario nella fase che non c'era né sindaco né consiglio comunale. Quindi un bilancio che pensava molto all'ordinaria amministrazione, chiamiamola così, senza scelte strategiche. Quindi noi all'interno di questo bilancio siamo riusciti a ritrovare alcune risorse per qualche lavoro che riteniamo urgente e prioritario, come tutta la nuova illuminazione a Serongarina, come l'ampliamento della Scuola Lugli, come la realizzazione della pista polivalente a Montemaggiore, l'asfaltatura di alcune strade, alcuni lavori qui in centro storico a Saltara dove c'è una via inibita da tempo a causa un crollo di una grotta e sarà ripristinata tutta la viabilità e la viabilità di questa zona. Oltre a questo abbiamo cercato anche di riorganizzare, di rafforzare alcuni servizi interni, nel senso che il settore dei lavori pubblici ad esempio ha bisogno di nuove figure. Lì abbiamo provisto la possibilità di assumere un nuovo tecnico in modo che si possano affiancare le attuali persone, così come nel settore degli affari generali interni al comune, ad esempio anche una persona che seguirà direttamente il sindaco. Perché la nomina del Presidente del Consiglio Comunale è una nomina importante? La nuova Presidente del Consiglio, il primo Presidente del Consiglio di Colle al Metauro sarà Maria Giovanna Cenerelli, che era la Presidente del Comitato Montemaggior Resiste. Come dire, un salto culturale, un salto di qualità, una visione innovativa che guarda davanti, dalle divisioni alle unioni. Non rinnega Maria Giovanna le sue scelte contrarie all'unificazione dei tre comuni. Prende atto che oggi il comune c'è e gioca un ruolo da protagonista per amministrarlo al meglio per i propri cittadini. Ecco, anche le nomine dei prosindici, importanti funzioni, quelle di collegamento tra il territorio e l'amministrazione, sono state fatte assieme ai loro vice. Indubbiamente sì. Anche su questo, la scelta che abbiamo voluto fare come maggioranza per i tre prosindici è quella proprio di ampliare la base di confronto verso la cittadinanza, la cosiddetta società civile. Infatti per Saltara sarà un ex insegnante, l'Anna Cecchi, molto conosciuta, molto stimata in questo territorio. Per Serongarina Tavernelle sarà Barimiesi Marco, una figura ugualmente conosciuta anche nell'ambito parrocchiale e associativo. Per quel che riguarda Montemaggior e Villanova sarà Mattia Guidi, l'attuale presidente del Circolo Acli, un ragazzo giovane, anche lì conosciuto, stimato. Tutte e tre queste persone non hanno avuto in passato ruoli politici, non appartengono a parti politici, non militano in partiti. Come dire, non abbiamo inserito dalla finestra la politica uscita dalla porta o viceversa, ma abbiamo ampliato alla partecipazione complessiva dei cittadini l'attività di governo.